Buongiorno a tutti, sono molto felice di aver accolto qui a Roma il primo ministro Marcel Ciolacu, i suoi ministri per il terzo vertice intergovernativo tra Italia e Romania, erano 13 anni che non ci incontravamo in questo formato e devo dire che sono particolarmente fiera che oggi si colmi questa lacuna, perché Italia e Romania sono nazioni chiaramente unite da relazioni molto forti, da legami culturali millenari, i nostri popoli condividono molto nel segno anche della comune appartenenza alla cultura latina, non a caso il bilaterale allargato si è svolto nella sala Roma e questo ha consentito alla nostra amicizia di rimanere inalterata nel tempo, è un'amicizia che trova riscontro anche nelle solide relazioni economiche e commerciali che esistono tra le nostre nazioni, l'Italia è il secondo cliente, il secondo fornitore della Romania, è il primo investitore in Romania per numero di aziende registrate, il fortissimo radicamento della comunità imprenditoriale italiana in Romania che conta oltre 50.000 aziende è chiaramente un segno tangibile di come i nostri rapporti siano estremamente intensi e la presenza italiana è una presenza fondamentale in tanti comparti, soprattutto nei comparti strategici, dall'energia alle grandi infrastrutture, l'acralimentare, i servizi bancari, la sanità e così come c'è un pezzo diciamo di Italia in Romania c'è anche un importante pezzo di Romania in Italia, la comunità romena come si sa è la comunità straniera più numerosa residente in Italia, oltre un milione di persone e offre alla nostra comunità un contributo estremamente importante. Questo vertice rafforza ulteriormente la nostra amicizia, amplia la nostra collaborazione in nuovi settori che sono di interesse comune. Abbiamo appena siglato una dichiarazione congiunta molto significativa che amplia la portata del nostro partenariato strategico che delinea nuovi obiettivi, nuove priorità condivise e a questa dichiarazione si sono aggiunti altri documenti importanti con la sottoscrizione da parte dei nostri ministri di altri sette tra memorandum di intesa, intese tecniche e lettere di intenti. Sono documenti che interessano settori molto importanti, la difesa, la cooperazione di polizia, la giustizia, le start-up, la cooperazione nel settore dell'energia nucleare, la cyber sicurezza, il turismo, la protezione civile, la formazione dei funzionari pubblici. Uno dei pilastri del nostro partenariato riguarda la dimensione politica strategica, tocca la nostra sicurezza comune che è tanto più importante nell'ambito di una guerra che si sta consumando nel cuore dell'Europa e ai diretti confini della Romania. In questo contesto noi abbiamo chiaramente ribadito il nostro pieno sostegno all'Ucraina. Da parte mia ho confermato al primo ministro Ciolaco l'interzione di proseguire nel contributo attivo alla sicurezza della Romania e dei nostri alleati orientali, come abbiamo fatto finora, come sapete, con gli schieramenti di assetti nazionali garantiti in ambito NATO. Noi siamo convinti che l'Alleanza Atlantica debba continuare a mostrare coesione e unità, che lo debba fare in linea con un approccio a 360 gradi alla sicurezza euro-atlantica e rilanciando anche l'azione al fianco sud. Abbiamo avuto modo di confrontarci sui principali scenari di crisi, compreso il conflitto in Medio Oriente. Chiaramente siamo sempre più preoccupati dai recenti sviluppi, in particolare per l'incolumità degli ostaggi, la salvaguardia dei civili nella zona di Raffa per il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Da parte del governo italiano ovviamente recepiamo la chiara indicazione che è emersa dal Parlamento, lavoreremo in questo senso in ambito internazionale, particolarmente nell'ambito della nostra presidenza italiana del G7. Col primo ministro Ciolaco abbiamo inoltre rinnovato la nostra comune attenzione nei confronti di una regione che riteniamo strategica, ovvero i Balcani occidentali. Come sapete, l'Italia considera una priorità il processo di riunificazione all'Europa delle nazioni che fanno parte di questo quadrante. Sono molto contenta che questo approccio sia condiviso anche dalla Romania e c'è ovviamente piena convergenza tra noi anche sul percorso di adesione all'Unione Europea di Moldova, Ucraina e Georgia. Anche la dimensione interna della sicurezza è un elemento centrale dei nostri rapporti. Vogliamo rafforzare la nostra collaborazione per combattere il terrorismo, le minacce nel campo della cybersicurezza, la criminalità organizzata, le reti criminali. Continuiamo a credere nella difesa dei confini esterni dell'Unione, la lotta senza quartiere, ai trafficanti di esseri umani, la costruzione di un nuovo modello di cooperazione e di sviluppo con le nazioni africane che l'Italia porta avanti, come sapete, con il piano Mattei e crediamo che questa sia la risposta più efficace che possiamo dare a livello europeo. Io ringrazio il Primo Ministro Ciolaco anche per la grande disponibilità e la collaborazione dimostrata in materia di giustizia. Sono tanti i punti che abbiamo condiviso tra i nostri Ministri, chiaramente non li citerò tutti. Penso ad esempio che sia importante tra le sfide che ci diamo anche quella che riguarda la possibilità che i detenuti condannati in via definitiva nei rispettivi Paesi possano scontare la pena nel Paese di origine. Con il vertice di oggi vogliamo dare nuovo impulso ai nostri rapporti economici e commerciali. I dati sono, come vi ho raccontato, estremamente buoni, ma a maggior ragione non possiamo fermarci qui e crediamo che ci sia un grande potenziale in espresso. Nel pomeriggio si celebrerà un business forum che vedrà la partecipazione di oltre 200 tra le principali aziende italiane e romene. È un'iniziativa che chiaramente va esattamente in questa direzione. Riteniamo altrettanto strategica la nostra cooperazione nel campo della sicurezza energetica. Molto significativa la firma dell'intesa, la recente firma dell'intesa tra un saldo nucleare, SACE e nucleare elettrica in un settore particolarmente strategico per lo sviluppo europeo. È fondamentale anche il settore dell'agroindustria che interseca chiaramente il tema della sicurezza alimentare con quello dell'identità culturale. Insomma è un parternariato che diventa sempre più forte, che è destinato a crescere. Il vertice di oggi io lo vedo come un nuovo inizio, una giornata che può dare grande linfa ai nostri rapporti, che ci può consentire di esplorare nuove opportunità di crescita reciproca e quindi mi pare che nei nostri colloqui insomma abbiamo anche verificato la comune volontà di farlo, di farlo in maniera concreta e di farlo quotidianamente. Quindi grazie davvero primo ministro, grazie a tutta la delegazione per questa splendida giornata che segna un nuovo inizio nei rapporti tra Italia e Romania. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi la Romania e l'Italia entrano in una nuova etapa di sviluppo del partenariato strategico consolidato. A 13 anni dall'ultima riunione intergovernativa che si è svolta a fare. Abbiamo oggi l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo importante nella storia dei nostri rapporti bilaterali. La dichiarazione comune che abbiamo firmato oggi getta le base di un piano di azioni che rafforzerà ad un altro livello i rapporti tra i due Stati. Ho apprezzato molto l'apertura del Presidente Meloni circa il rafforzamento della cooperazione economica, ma anche nel valorizzare la diaspora romena che vive in Italia e della comunità italiana che vive in Romania. Tutti sappiamo l'importanza dei rapporti storici e culturali che ci uniscono. Siamo latini e per molti di noi Italia è la seconda casa. I romeni che vivono qui hanno già dimostrato il loro contributo nello sviluppo dei rapporti tra i nostri due Paesi. Bisogna ammettere che certe volte i politici non hanno toccato il livello del potenziale comune vero, ma noi due, Signora Presidente, ci proponiamo di cambiare questa cosa. Nello spirito di questi rapporti storici ho deciso, come Primo Ministro della Romania, di contribuire alle riparazioni della colonna traiana, un monumento che rappresenta una pietra miliare per il popolo romeno e per i rapporti culturali tra le due Nazioni. Dobbiamo proteggere i nostri valori comuni, rispettare la storia e imparare dalla storia, guardandoli insieme davanti verso quello che possiamo fare per mantenere la pace. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile la buona accoglienza dei romeni qui e voglio trasmettere ai romeni in Italia che il governo che io guido sta a loro disposizione. Faremo tutto il possibile che i loro rapporti con il Paese siano sempre più forti. Ieri ho avuto un incontro con i rappresentanti della diaspora romena in Italia e le posso dire, Signora Presidente, che apprezzano il suo sostegno e quindi un aspetto discusso e dibattuto nei documenti firmati e l'offerta di un lavoro sicuro. Ringrazio in particolar modo lei e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in Italia per aver sbloccato la soluzione dei dossier di pensionamento dei romeni che hanno lavorato in Italia. Se prima c'era un tempo di attesa di due o tre anni per rimediare questo, ora grazie a un incremento dei dipendenti che ci lavorano questo tempo si è ridotto a tre o quattro mesi. E' estremamente importante per un premier di sinistra prendersi cura dei romeni che sono in via di pensionamento, che loro vivono in Romania o all'estero e la ringrazio di nuovo per questo. Sul suo sostegno anche per poter finalizzare i negoziati sull'accordo tra il Vescovado ortodosso romeno e il governo italiano. Iniziate nel 2012 circa lo statuto del clero ortodosso romeno in Italia. Il Vescovado romeno rappresenta un sostegno essenziale per i romeni che vivono qui e sono convinto che arriveremo a brevissimo tempo ad avere un consenso. Inoltre nella riunione comune di oggi ci siamo concentrati sulla dimensione economica. L'Italia è il secondo partner commerciale della Romania. Ci sono delle previsioni per l'anno scorso che parlano di un superamento dei 20 miliardi per l'anno scorso. Osservo anche con grande soddisfazione che i romeni sono già al secondo posto tra gli stranieri che aprono imprese e imprese individuali anche. Ci sono molte imprese romene inoltre che hanno investito in Italia. Banca Romana, Digi, Bitdefender, tutti i leader nei loro rispettivi campi di attività. Mi auguro che questo si possa sviluppare e lo si nota nel grande interesse per il forum economico Romania-Italia che si terrà questo pomeriggio e che sta a conferma di questa. E sono qui anche per rendere un segnale alle imprese italiane. Venite a investire in Romania perché non avrete che da guadagnare. L'ambiente d'affari italiano in Romania già presente contribuisce allo sviluppo economico del nostro Paese. I giorni scorsi sono stato in visita ad un cantiere navale con azionisti italiani dove lavorano 4.000 persone e sono stato molto piacevolmente impressionato dalle condizioni. Vogliamo poter utilizzare il trasferimento di know-how dall'Italia al fine di rendere più alto la competitività economica dei due Paesi e di sviluppare iniziative comune. Gli imprenditori italiani e romeni ci sovrastano in questo. Noi ci proponiamo di arrivare a coprire anche più mercati. Abbiamo vari progetti comuni di importanza strategica nell'ambito dei trasporti, nell'ambito della difesa e dell'energia. c'è un potenziale forte che intendiamo mettere in atto. I rispettivi ministri hanno trattato ogni problematica in parte per poter identificare le migliori soluzioni per la cooperazione, per rafforzare la cooperazione. Oggi abbiamo parlato anche dell'agenda europea e internazionale. La Romania e l'Italia guardano allo stesso modo molte delle sfide a cui andiamo incontro in presente. Abbiamo bisogno di un mondo in cui le regole internazionali vengano rispettate. Dobbiamo proteggere i nostri valori e l'Unione Europea e la Nato devono sostenerci per trovare le migliori soluzioni in comune. Sono convinto che insieme la Romania e l'Italia continueranno a fare una parte importante ed influente nello sviluppo internazionale e renderemo questo ancora più efficace. Apprezzo il sostegno incondizionato dell'Italia per l'adesione della Romania allo spazio Schengen. Continueremo a informare lei, Presidente, e personalmente il Governo dell'avanzamento di questo progetto. Come lei, Signora Presidente del Consiglio, sono una persona pragmatica che punta ai risultati. Quindi chiederò ai miei colleghi di seguire da vicino il piano contrattato affinché il futuro vertice intergovernativo si svolga in un tempo più ravvicinato. Esistono le condizioni perché l'Italia e la Romania sviluppano le loro ambizioni. Cara Giorgia, Signora Presidente Meloni, ti ringrazio dell'apertura che dimostri e del nostro dialogo di oggi. Sono convinto che siamo sulla buona strada sia per quanto riguarda l'afforzamento del nostro partenariato strategico che l'amicizia sincera tra le nostre due Nazioni. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie.